Il restyling del territorio di Pozzuoli va avanti e dopo la riqualificazione delle zone di Via Napoli e di Villa Avellino si concentra su altri belvederi della città. In particolare sono stati eseguiti interventi di recupero presso l'ara della Solfatara, dove è stato completamente riqualificato lo spazio verde a picco sul mare, sostituiti i lampioni della pubblica illuminazione e fortificate le ringhiere protettive. L'altro restauro ha riguardato invece la zona di Via Pergolesi, nei pressi della casa circondariale femminile, dove è stata ampliata la zona del panorama e delocalizzato il parcheggio riservato al personale del carcere. Altri lavori di modernizzazione hanno interessato anche la fontana a Porta Napoli e la piazza del Rione Terra. Una promessa mantenuta, quella del primo cittadino Vincenzo Figliolia, che in occasione degli interventi relativi alle aree verdi di Pozzuoli aveva affermato la volontà di rendere la città più vivibile, attraverso progetti di recupero dei maggiori spazi pubblici della città, nonostante le mille difficoltà che quotidianamente un'amministrazione comunale deve affrontare. Cambiamenti che non solo migliorano l'immagine del paese per i turisti e per gli abitanti, ma rafforzano il senso civico di quest'ultimi e ci si augura possano scoraggiare una volta per tutte ogni forma di atto vandalico.